buona sera ben trovati a chi si sta collegando e siamo in attesa che arrivi anche pippo civati abbiamo così nel giro di poco questa questa mattina abbiamo deciso di fare questa questa chiacchierata questa diretta giusto un po per condividere le riflessioni di questi giorni perché siamo siamo veramente circondati da tantissime chiacchiere negative anche dove il paese sembra un po messo da parte quindi ci piaceva un po condividere con voi un momento sicuramente difficile per noi per il paese per la politica in generale però noi ci crediamo tantissimo che invece si possa fare un altro tipo di politica allora vediamo un po mi sembra aver visto civati eccolo vediamo se arriva eccolo qua buonasera 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 come stai io volevo io volevo subito mettere un veto sulla tua candidatura ma guarda no perché se non metti un veto non sai nessuno no infatti devi vetare diciamo così cioè il paese va rotoli e tutti si preoccupano di parlare male di quello di fianco ma comunque dicendo delle cose interessanti ti stavo seguendo ti seguo da anni ricambiata no sto dicendo questo che il clima è brutto è molto vedo soprattutto quello adesso stavo guardando proprio poco fa la la lista degli zombie di grillo no cioè tutte queste foto di ex compagni noi ce le ricordiamo molto bene tra l'altro eravamo anche seduti vicino durante la scorsa legislatura sembravano questi ragazzi molto giovani anche molto entusiasti sicuramente ma anche un po arroganti altrettanto sicuramente però insomma tutti più o meno dello stesso gruppo adesso la lista degli zombie cioè mi mi sembra tutto troppo violento troppo aggressivo i veti e calenda o questo no le 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 frattaglie cioè ce n'è bisogno c'è bisogno di di essere di cavalcare così tanto la rabbia non ne vediamo tutti i giorni abbastanza nel paese la politica pure lo deve fare non si può fare qualcosa di diverso ecco è questo che che mi chiedevo e so benissimo che un po l'argomento che ci accomuna tanto che la politica può essere qualcosa di bello di speranza di futuro di possibile e di felicità ecco io vorrei trovarmi quel ritaglietto lì capito in questa situazione quindi dicevo che eravamo contenti un po di parlarne insieme pubblicamente e io direi di sì peraltro c'è anche un po di necrofilia no cioè continuano a inseguire cose morte è vero si capisce perché se vogliamo rimanere in metafora invece c'è qualcosa di vitale per esempio ho sentito prima il mio amico rispettore bassalotti è un personaggio della cultura politica popolare diciamo così che mi spiegava che ci sono una decina di iscritti all'ora per possibile e sono come sempre tutti molto giovani insomma ragazzi e ragazzi che si affacciano sulla scena della politica e questo è merito ovviamente del lavoro fatto in questi anni perché si presume che far politica significa stare assolutamente al potere noi da quando non siamo più al potere non che ne avessimo parecchio però chiamando deve essere la calenda che vuole un rigassificatore a portata di mano ma dicevo che la politica si può fare e si può crescere come comunità anche stando lontani dalle stanze del potere appunto e da questa ossessione di farne parte e peraltro come sapete così ti faccio i complimenti in diretta noi abbiamo una segretaria che fa l'insegnante di ruolo quindi cioè abbiamo tutti un lavoro è incredibile non abbiamo nessuna frenesia nel voler tornare a tutti i costi ed occupare posizioni questo lo dico perché ho visto moltiplicate tra l'altro siamo nel caso correggimi se sbaglio in cui ci sono più simboli che elettori cioè se non hai una lista civica sei un pirla cioè devi avere una tua roba che no sì che poi fa appena appena un filo di confusione tra l'altro dei simboli che tornano ho visto un'app che sa di farfalla che mi ricordava Rutelli invece stasera l'ho vista con Di Maio cioè delle cose che che un po' è l'ape maia come è stata esatto come è stato salutato dalla rete che è sempre molto veloce però veniamo a noi che ci sono vedo molta molta preoccupazione come giusto che sia tu hai qualcosa da dirci credo sì ma io faccio finta di non saperlo io in questi giorni sto sto parlando con tutti infatti mi fa mi fa un po' sorridere chi dice vi dovete parlare io parlo parlo con tutti parlo tantissimo tra l'altro ahimè parlo con tutti uomini io infatti questo li lancio anche un po' un appello perché sento un po' di solitudine nel mio ruolo da segretaria confrontarmi con con tutti gli uomini perché i segretari sono uomini o comunque le persone di fiducia dei segretari sono uomini e quindi un po' di solitudine ce l'ho in queste in queste conversazioni stiamo cercando non abbiamo deciso niente ne parleremo con la nostra comunità quei nostri iscritti e valuteremo però ne stiamo cercando di trovare veramente il la la strada per portare un po' di possibile un po' di delle nostre battaglie quelle battaglie che riteniamo fondamentali per il paese non so se hai visto una un sondaggio uscito oggi pomeriggio da quorum giovanni diamanti l'ha pubblicato e mi sono segnata le le cinque questioni di cui si parla in questo sondaggio che sono rilevanti ritenute più rilevanti per i cittadini cioè mentre noi parliamo di veti di calenda su altra gente e pensa i cittadini parlano delle bollette energetiche pensa la crisi energetica le bollette sono il primo posto delle preoccupazioni la seconda i livelli salariali e l'inflazione pensa tu tipo magari un salario minimo potrebbe essere utile magari hai visto che adesso lo vogliono tutti mannaggia la pupattola tutta la legislatura si può ancora firmare comunque ricordiamo che noi sul salario minimo come dire lavoriamo da tanto tempo perché crediamo che sia proprio una di quelle questioni che fanno cambiare il paese lo fanno svoltare piccola cosa ma una leva così importante mi fa piacere che in campagna elettorale hai visto che c'è tipo una fosforo deve essere cioè tutti diventano più intelligenti più capaci più le donne subito le donne arrivano le donne e immediatamente la parità salariale queste cose qui la tampon tax sicuro arriverà in qualche modo però questa è una delle prime cose poi dopo c'è l'ambiente e il cambiamento climatico con con il terzo posto il futuro e giovani e la scuola che era tutto relativo e le conseguenze del covind e il sistema sanitario cioè la gente parla di questo e noi pure guarda un po e a noi piacerebbe proprio portare queste cose ma perché perché brignone da sempre amica di giovanni diamanti dei sondaggisti quindi lei coglie lei ha un sondaggio precog cioè lei sapere però è così noi di questo ci siamo occupati in questi anni mentre appunto chi era in parlamento forse aveva bene altri pensieri insomma anche ai grandi sfide non vogliamo banalizzare però assolutamente alcuni elementi sono quelli che tu ricordavi e quindi cosa succede nei prossimi giorni nelle prossime ore perché sono ore frenetiche anche perché con questa bella crisetta diciamo di mezz'estate shakespeariana che non è un sogno diciamo non è un sogno di mezz'estate è un incubo di mezz'estate hanno pensato bene che tutti i processi democratici per esempio io ricordo che ad un certo punto si potevano raccogliere le firme con lo speed perché non si possono raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni con lo speed cari nostri legislatori maledetti qualche giorno fa ero qua in diretta anche con marco cappato che insieme insieme anche ad altri ad altri hanno lanciato questo appello al presidente del consiglio al presidente della repubblica a tutte le forze politiche proprio perché questa cosa si può fare negli affari correnti così come si chiamano quelli dove siamo in questo momento al governo lo può fare cioè basta estendere quella norma che sarà stata prevista per il referendum con alla raccolta firme anche perché non toglie nulla aggiunge solo aggiunge democrazia e però è certificato e sono valide sono assolutamente identiche a quelle cartacee la differenza è che si prendono molto più velocemente quelle cartacee molto più complicato e quindi ti viene il sospetto che quelle cartacee forse servono proprio ad escludersi quello quello che scrive che dicevo è già la legge elettorale non ti permette di sceglierti candidati ma così non ti permette neanche di scegliere i partiti cioè proprio è fatto in modo tale che gli stessi che hanno buttato giù questo governo e si affrettano a fare le elezioni saranno anche gli stessi che possono certamente partecipare quindi noi siamo continuiamo a in questo appello perché ci cambierebbe parecchio la vita anche se io sarei veramente felice di riuscire a raccogliere queste firme in ogni caso però è veramente una montagna molto molto ripida e soprattutto fatta a ferragosto che non è anche quello un dettaglio da poco bene quindi allora ci sono da dire facendo un po' riassunto delle cose da fare primo nel caso dovessimo metterci a raccogliere le firme chiediamo a tutti quelli che sono a disposizione di farci un pensiero di mandarci la loro disponibilità se nel frattempo tra l'altro si scrivono a possibile secondo me male non fa no no fa proprio bene c'è gente a cui è migliorata la vita tantissimo dopo questa scelta è entrata in contatto con persone fantastiche perché poi la cosa bella che in questo clima cupo mostruoso zombie guerre stellari i lati oscuri della forza ci sono anche persone molto solari questo va detto secondo elemento noi rifletteremo credo con tutte le forze politiche diciamo dal centro sinistra verso sinistra insomma possiamo dare questa indicazione attendendoci anche delle proposte non soltanto facendo perché appunto non è che cerchiamo di imbucarci ecco lo vorrei ribadire vorremmo almeno io lo vorrei come elettore poter votare qualcosa sai quelle esigenze strane poter votare qualcosa in cui riconoscersi ovvero qualcosa che porti avanti le battaglie che abbiamo detto senza mischiarle con altri perché vedo qualcuno che dice cinque stelle hanno fatto il salario sì però cinque stelle hanno fatti i decreti di sicurezza di salvini per esempio se non ricordo male per fare un esempio noi faremmo solo una delle due cose diciamo noi non abbiamo equivoci almeno sul piano delle cose in cui crediamo quindi questo è il secondo elemento il terzo elemento ovviamente è di promuovere non soltanto noi stessi ma l'Italia come dire più promettente più capace di guardare in avanti ridendo dicevamo che forse bisogna fare una campagna elettorale 2050 a portarci avanti con il lavoro perché tutte le cose che sono state richiamate hanno bisogno di un non soltanto di un'elezione ma di una serie di impegni che si possano portare avanti per il futuro e poi noi abbiamo i nostri tormentoni che sono il salario clima progressività patrimoniale adesso abbiamo scoperto una cosa fighissima i giga abbiamo un sacco di giga no dobbiamo lavorare sui giga si parla di energia diciamo e non di telefonia mobile ma sui giga il nostro serafin che è un po come dire l'uomo che sa tutto noi abbiamo serafin ragazzi voi no cioè spiace ma quello più bravo esatto quindi insisteremo su queste cose e diamo anche un ultimo messaggio che magari si possono anche vincere le elezioni perché dal siamo passati dal meno peggio al come dire al minor disastro non sono nuova categoria no cioè stiamo cercando ormai fra un po appunto come dicevamo sempre meno peggio finisce col peggiorare quindi rimanete collegati con la segretaria beatrice brignone con tutto il gruppo dirigente di possibile con tutta la nostra comunità iscrivetevi date la vostra disponibilità nell'eventualità estrema razza per raccogliere le firme e poi discuteremo insieme la collocazione migliore nel caso in cui dovremmo invece trovare se ho detto bene un accordo con altre forze politiche ovviamente con cui andare appunto d'accordo non in disaccordo certo noi siamo siamo oggi leggevo un tuo bellissima intervista sul giorno se sbaglio il giornale era era quello dove giustamente parlavi di proporzionalizzare proporzionalizzare si può dire il il rosatellum perché sembra un tecnicismo ma la legge elettorale non è un dettaglio è proprio purtroppo è sostanza e questa schifezza di legge elettorale che ho scoperto l'altro giorno anche Renzi ha detto che una schifezza questa legge elettorale come se fosse caduta da un paese lontano e invece ricordiamo che noi l'avevamo detto in aula in quei giorni terribili che questa legge chiamata rosatellum era era una pessima legge elettorale e lo è e continua ad esserlo e purtroppo permette non permette di avere grandissima agibilità però sicuramente ti permette di poter dire votate la forza che vi rappresenta di più che cerchiamo appunto di di renderlo un po più proporzionale cioè stiamo insieme ad altre forze politiche non ci piacciono altre forze politiche votate quella perché voti non si disperdono dentro la coalizione rimarrebbero lì e magari poi alla fine riesce anche ad eleggere riesce ad arrivare a una soglia molto alta che il 3 per cento una soglia molto alta di voti però magari tanti che possono riconoscersi nelle stesse battaglie che vogliono portare meglio avanti quelle rispetto ad altri partiti presenti nella stessa coalizione li si dà forza e li si deve voce in parlamento e questo è questo ci trova le regole del gioco sono queste noi non piacciono e purtroppo non abbiamo decise però le subiamo e cerchiamo di portare avanti la nostra logica le nostre battaglie e anche un pizzico di di sogno se vogliamo comunque sia di visione non così negativa della della politica e di portarla dentro il paese ecco mi piacerebbe riuscire a fare questo tipo di lavoro riuscirlo a fare con te e pippo con tutta la nostra comunità e con tutti quelli che che in queste ore che ringrazio peraltro stanno ci stanno raggiungendo ci stanno dando una mano ai tutti i comitati che stanno discutendo che ci stanno esprimendo solidarietà che stanno anche lavorando perché ci arrivano un sacco di proposte che il buon serafin sta mettendo a punto e proviamo a fare quello che che è meglio che è meglio possibile che possiamo fare questo questo è in assoluto però con un po di sorriso con un po di gioia di fare una cosa bella cioè non con questi musi o con tutto un po sintetizzato allora se non fai quello sei cattivo ma questo io voglio questo cioè come se fosse tutto un po una guerra sempre con me o contro di me cerchiamo di fare le cose fatte bene cerchiamo di farle con più forze possibili e cerchiamo di farle con un bel sorriso di chi è orgoglioso di portare avanti un bel disegno di paese senza vita sì senza vita no peraltro appunto perché poi come sapete questo sistema elettorale geniale io lo dissi in parlamento tutti ridevano mi prendevano in giro mi davano del dello scemo eh in verità è un sistema elettorale truffaldino che peraltro non prevede nessun impegno di coalizione non prevede nessuna indicazione del del premier non prevede nessuna eh appunto nessuna coalizione nel senso nessun programma qualcuno parla di ulivo per esempio l'ulivo era costruito in un tutt'altro modo peraltro siccome il governo è stato fatto cadere eh così non c'è neanche modo e tempo di fare una riflessione che sia quella eh di costruire qualcosa insieme di condividerlo insomma questa giusta posizione è inevitabile proprio per le regole del gioco che sono state immaginate leggo un sacco di commenti che hanno la soluzione allora cari amici ascoltatori e carissimi elettori ed elettrici eh la cosa è molto complicata appunto ribadiamo noi siamo disposti anche a perdere come noto quindi non è questo il problema non bisogna vincere per forza perché se poi vinci per forza in quel modo lì però siccome ci piacerebbe tantissimo che le idee le persone di possibile fossero in Parlamento stiamo cercando la soluzione più coerente e migliore per farlo non è difficile da capire ovviamente non tutto ci è a favore no in questa storia cominciare dal fatto che non possiamo se non facendo una fatica amicidale rappresentare il nostro simbolo no con le firme perché invece altri hanno studiato meccanismi molto sofisticati per non doverlo fare quindi senza vittimismi senza metterla giù dura sapendo che può andare benissimo perché può andare anche così così noi ci proviamo se ci seguite se seguite questa persona vestita di giallo qua sopra che si chiama Beatrice Brignone nelle prossime ore scoprirete cosa abbiamo pensato e soprattutto cosa avremmo deciso insieme perché poi come come dissi una volta un signore di Firenze o si va a Palazzo Chigi e al Parlamento tutti insieme o se no ci si sente soli perché finisco su questo come si sentono solo soli gli elettori in questo momento spaesati io ho l'impressione che anche i leader politici si sentano tristi cupi soli hanno bisogno c'è questa forma questa deriva di autoaffermazione che è talmente vistosa che non ha nessun significato perché spesso nasconde un gigantesco vuoto politico per cui possibile.com vi scrivete date la vostra se ci scrivete un'email date la vostra disponibilità nell'eventualità che si debba raccogliere fino a poi per fare campagna elettorale in assoluto e poi ci troviamo tra qualche ora a fare quello che dobbiamo insomma perché poi l'altra cosa dico l'ultima cioè siamo tutti geni cioè prima facciamo i ragazzini siamo tutti genitori e francamente al di là del nostro successo personale del successo nel senso anche di realizzazione delle nostre idee forse la preoccupazione vera è il futuro dei nostri ragazzi a cominciare dalle questioni climatiche e da quelle sociali delle piccole grandi battaglie la retribuzione la fiscalità insomma le cose che sapete di cui ci siamo sempre occupati anche i diritti civili che sono assolutamente i sociali e non c'è nessun aggettivo da me chi ci mette l'aggettivo è già già comincia a fare discrimi esatto io aggiungo un aspetto a cui sono molto legata che appunto è quello della scuola perché perché la vivo e perché poi ritengo che sia assolutamente predominante perché c'è tantissima solitudine anche lì chi frequenta i ragazzi più giovani alcuni giovanissimi in alcuni casi sa quanta solitudine è cresciuta in questi anni soprattutto dopo il covid sicuramente amplificata però è una solitudine importante una difficoltà anche nella socializzare insomma ci sono veramente tanti aspetti che si legano alla salute che si legano alla salute mentale che è un altro aspetto che noi abbiamo sempre portato avanti e che continueremo a batterci purtroppo non c'è bisogno adesso di stare a ricordare o elencare drammi tragedie però tanto porta a disagio mentale forse sarebbe anche ora che questo paese oltre che a piangere o a puntare il dito o a condannare cominciasse prima un po' a vedere quello che succede nelle case delle famiglie con disagio nelle teste di ragazzi che manifestano disagi e un po' tanta solitudine che in cui le persone vengono lasciate all'interno delle loro case quando ce l'hanno perché anche questo è un altro enorme problema di questo paese quello del diritto all'abitare quindi insomma queste sono le cose che noi premono cioè che possibile talmente bella come c'è una meravigliosa cosa per la quale la segretaria ha un conflitto di interessi nel senso che fa l'insegnante si preoccupa per la scuola se tutti avessero un conflitto di interessi come il suo e non quelli terrificanti che attraversano come dire e bloccano il paese saremmo un paese migliore in questo caso il conflitto di interessi è passione pura è passione pura brignone questo è la lista esatto lista brignone va bene direi che grazie ci vediamo ci sentiamo restiamo in contatto facciamolo e studiamo la soluzione migliore per tutti perché a noi interessano davvero il maggior numero di persone che stiamo meglio perché questa è la politica felicità non la triste la cupezza la è la felicità per non la rissa perenne non il la discriminazione questa cosa e si vive tutti un po meglio può essere contagiosa esatto noi vi lasciamo e ci rivediamo a stretto giro se direi che qui ormai le giornate cominciano a scarseggiare bisognerà prendere delle decisioni molto molto prossime intanto grazie Pippo per la sempre disponibilità e a tutte le persone che ci hanno seguito grazie Pippo per la sempre disponibilità e a tutte le persone che ci hanno seguito